Secondo voi è possibile vivere senza denaro, proprio non utilizzando il denaro, proprio come ogni cosa non abbia un prezzo ma ognuno possa scambiare quello che ha? Naturalmente prima del denaro c'era il baratto, si viveva benissimo, ma io vorrei fare qualcosa invece di diverso, cioè che ognuno fa un lavoro a cui non deve dare un valore preciso in un posto magari pensando di retrocedere tecnologicamente, magari va bene, in un paesino tipo Gombitelli ad esempio, vedete questo splendido borgo medievale ecco, in questo caso uno vorrebbe dire, sì ci sono tutte le risorse, i paesani si conoscono, decidono di creare una comunità sufficiente certo dovranno venire dei prodotti da fuori, a quel punto lì come li pagheranno? sì, magari vendendo qualcosa di quello che producono in eccesso e può anche reggere come idea, dal punto di vista tecnologico certamente ci sarebbe una regressione però riuscirebbero a creare una comunità che si tiene insieme ora, quante ore dovrebbero lavorare i Gombitelli si qualora decidessero di vivere in questa maniera, cioè creando una comunità sufficiente? io credo che dovrebbero lavorare più o meno di ora, non lo so, può darsi che gli bastino ad esempio solo 6 ore di lavoro per 5 giorni a settimana è possibile, bisogna vedere un attimino quali saranno le esigenze di quelli che abitano nel paese e quello che potrà offrire la cittadinanza ad esempio, servirà legno e ci sarà qualcuno che dovrà occuparsi del legno ci serviranno materie prime di costruzione, vedete, per fare i tetti e qualcuno dovrà farlo e quindi servirà un forno ad esempio per cuocere, per avere l'argilla e cuocerla e fare ad esempio le tegole ci sono tante cose, oggi non siamo più abituati a produrci le cose da noi e quindi diventa veramente complicato a mio parere credere di riuscire a fare delle cose da noi, guardate qua che cosa hanno fatto, è un spettacolo questo non so se l'ha fatto un artista locale ma è bellissimo questo essere umanoide, vedete, questa specie di sirenetto umanoide bellissimo e poi uno vorrebbe dire, va bene, allora riusciamo a produrre tutto, abbiamo funghi, abbiamo possibilità di avere bestiame certamente, quindi un'autosufficienza di paese, ad esempio dal punto di vista energetico in teoria si dovrebbe fare un investimento iniziale in pannelli solari e andare a poi avere elettricità anche in abbondanza con le batterie di accumulo per poter resistere alle giornate più nuvolose e in quel caso uno rinuncia a accendere magari qualche elettrodomestico, no? questa è un po' l'idea, avete visto quanto è anziano, antico questo paese, Gombitelli e vi farò un video apposito dove vi parlo di questi splendici scorci queste stradine strette in cui mi sono voluto perdere, proprio ho deciso di visitarlo senza conoscere nulla di questo paese e per fare anche questo esempio di un'economia solidaria e cercando di raggiungere massima autosufficienza che potrebbe essere fatta in un paesino di questo tipo dove c'è anche un bosco che potrebbe a questo punto essere acquisito dalla cittadinanza intorno e che dà le materie prime ma certamente non basterebbe perché ad esempio servirebbe il carbone e dovremmo tornare ai vecchi carbonai quindi saranno persone che dovrebbero fare i carbonai, lavoro duro, impegnativo insomma non è una scelta facile e allora mi direte è meglio tornare al denaro il denaro comunque permette di avere una vita un pochettino più sviluppata anche se poi dobbiamo comprare tutto all'estero, troveremo comunque dei paesi che ci vendono delle materie prime e viviamo meglio così, sì però siamo indipendenti da questa situazione questa è una cosa fondamentale quindi se riuscissimo in una comunità sempre più grande magari una regione che ha più materie prime o addirittura uno stato, addirittura un macro stato come l'Europa avere tutto quello che ci serve anche le aziende tecnologiche che producono prodotti complessi avere quindi aziende che producono chip elettrodomestici, questo è possibile ma bisognerebbe farlo a livello europeo e abolendo il denaro c'è che ognuno fa il suo lavoro in maniera libera a quello che gli piace anche se immagino ci sarebbero dei grossi problemi perché molti non vorranno fare dei lavori che sono necessari ma che non piacciono è evidente questo e quindi questo sistema è un po' topistico ed è per questo che io nell'equalismo non ho puntato su questa situazione di abolire il denaro perché conosco la natura umana e conosco che anche da punto di vista pratico è difficilmente attuabile questa idea è romantica, è bellissima, ne ho parlato con alcune diverse persone che mi parlavano di un'idea simile e ognuno la declinava in maniera diversa però avevano questa idea romantica del fatto di poter vivere senza denaro in maniera autosufficiente alcuni dicevano evidentemente che bisognava farlo addirittura a livello mondiale per avere tutte le risorse e questo sarebbe positivo anche dal punto di vista della pace, della mancanza di problemi fra i popoli sarebbero tutti ognuno a collaborare per il bene complessivo, ognuno con le sue peculiarità però questa è una cosa che al momento è molto lontana evidentemente e quindi cosa possiamo fare noi che magari vogliamo un mondo più eco, una società solidaria in quale modo ci possiamo muovere? io sono ancora dell'idea che dobbiamo farlo sensibilizzando le persone verso un'idea proprio di società diversa da quella attuale che prevede lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e il capitalismo più sfrenato intanto muoviamoci su questo livello, cioè dire che non è giusto e che bisognerebbe fare diversamente secondo, fare una proposta come quella che ho fatto io nell'equalismo che è una proposta un po' particolare, nel senso che si crea una moneta una criptovaluta che si chiama grano che sarà l'unica scambiabile nello stato in cui verrà applicato l'equalismo, pensate è una criptovaluta che non ammette quindi possibilità di utilizzare altre valute, propri motivi cioè le potete utilizzare ma sono tracciate per forza di cose perché a quel punto voi sapete in futuro scordatevi di poter utilizzare i contanti questo non vi farà più permesso sarete costretti ad avere delle valute virtuali, anche l'euro digitale ad esempio che saranno completamente tracciate altrimenti non avrebbe senso farle e quindi ognuno dovrà essere completamente tracciato e quindi a quel punto lì uno stato più liberale che riesce a fare una criptovaluta che si chiama grano, che viene utilizzata solo in quello stato e che può essere scambiata nelle valute che volete però pagando una commissione è una buona soluzione perché permetterebbe una sovranità monetaria per il fatto semplicissimo che ogni cittadino di quello stato che attuerà l'equalismo sarà copadrone della banca centrale ora voi vedete non siete in grado di controllare la banca centrale nemmeno dal punto di vista più indiretto della politica in realtà la banca centrale è indipendente e comunque è un organo con cui dobbiamo fare i conti ma che non possiamo controllare mentre il cittadino potrà controllare la banca centrale questo naturalmente farà vedere, farà crescere il cittadino una sua idea perché la banca centrale ha una grande forza ma ad esempio ha anche dei rischi perché se la banca centrale inizia a stampare monete a caso e anche sopra il numero il risultato potrà che diluirà in maniera incredibile la moneta e la renderà svalutata perché comunque i beni avranno un valore stabile rispetto alla moneta che aumenterà di numero, di presenza e quindi si svaluterà e quindi dovrete usare più moneta per acquistare la stessa cosa giorno dopo giorno e questo è che crea la super inflazione quindi la banca centrale a volte fa bene anche essere un attimino tranquilla perché altrimenti genera un'inflazione incredibile che poi porterà aumento incredibile dei costi di beni di consumo e anche dei costi di produzione e non è una cosa sana anche se favoreva dal punto di vista di chi ha debiti perché chi ha un debito vecchio, pregresso, ha un tasso fisso ci guadagna ad esempio io ho mutuo a tasso fisso pago 450 euro al mese se ho 10 anni di inflazione al 9% è chiaro che io alla fine di quei 10 anni anche se il mio stipendio non aumenta il 9% all'anno non il mio stipendio che faccio il contadino ma comunque aumenterà il prezzo dell'olio che produco oppure aumenterà un pochino lo stipendio di mia moglie il risultato sarà che il mio mutuo sarà effettivamente sempre quella cifra lì ma con quella cifra avrò un potere acquisto minore quindi di fatto diminuirà, dimezzerà oppure si ridurrà anche di parecchio quindi anche del 60-70% rispetto a quello che costava non come cifra assoluta ma come valore di quello che io avevo di entrate il mio mutuo e quindi questo conviene a chi ha grandi debiti mentre chi ha dei soldi da parte o degli stipendi viene impoverito incredibilmente dall'aumento dei tassi e dall'aumento dell'inflazione naturalmente sale l'inflazione alzano i tassi per fermare l'inflazione creano una sostanzialmente tecnicamente una recessione che vedremo è stata annunciata tanto non era ancora arrivata perché partivamo da un livello molto basso però probabilmente arriverà nell'anno prossimo una recessione diciamo che è abbastanza probabile speriamo di no e questa è l'economia se voi controllate la banca centrale avrete la leva in mano ma dovrete essere responsabili in una società equalista il cittadino decide se si alzano o si abbassano i tassi di interessi e se la decisione è sbagliata poi possono cambiare idee e dire no facciamo un'altra cosa cambiamo politica monetaria e quindi siete maturi per poter fare una cosa del genere diciamo che dal punto di vista degli economisti che vedo in giro cioè dei giovani economisti cioè dei ragazzi dal punto di vista economico non è che sono ferratissimi quindi impareranno sul campo questo sarebbe il bello della democrazia diretta quella vera quella applicata che le persone dovrebbero stare a informarsi invece oggi si disinteressano completamente della gestione della polis se lasciano che siano alti vertici a decidere naturalmente essi sono influenzati da chi ha più potere e questo è un problema che porterà alla fine della democrazia se andiamo avanti così quindi dobbiamo scegliere per forza di puntare su questo nuovo livello di democrazia anche se difficilmente ci lasceranno in mano le leve del controllo ad esempio dei tassi di interesse qualcosa di impensabile oggi ma in un mondo dove si pretenderà l'equalismo questo sarà possibile naturalmente il trattato sull'equalismo io ve lo dico è gratis lo trovate su www.equalismo.it poi lì c'è scritto tutto come fare per ottenere il resto del pdf gratis che vi mando via email e questo lo faccio proprio per farvi partecipare e le ultime pagine dell'equalismo sono da scrivere voi e dovete scrivere voi bisogna partecipare non si può essere passivi di fronte ad un mondo che cambia e che sta portando in un mondo dove avremo le macchine avranno la produzione che il lavoro sarà sempre meno necessario e i mezzi di produzione saranno in mano a pochissime persone questo è il rischio numero uno per l'umanità nient'altro di tutti quelli che vi dicono e quello è il rischio numero uno cioè che ci siano pochissime persone che controllano tutti i mezzi di produzione e voi vivrete di una elemosina fatta con la tassa ai robot questo succederà non ora ma tra pochissimo l'intelligenza artificiale sta andando facendo passi da gigante che facciamo stiamo a guardare o prendiamo delle iniziative quindi detto che un mondo senza denaro purtroppo è un'utopia non realizzabile l'equalismo è un'utopia realizzabile e non è nemmeno tanto un'utopia si può fare bisogna che però le persone partecipino e quindi meno chi ne ha lavoro e un pochettino più attenti a pretendere i vostri diritti prima che ve li toccano del tutto dovete essere voi in grado di scegliere l'equalismo di scegliere un mondo dove voi decidete la politica monetaria di un paese dove voi decidete il lavoro che volete fare nella vostra vita dove voi decidete quando ci saranno le macchine avrete comunque la possibilità di dedicare gran parte del vostro tempo libero a fare cose bellissime come ad esempio un pellegrinaggio un viaggio luoghi meravigliosi da visitare come questo guardate la facciata di questa chiesa l'affresco che c'è bellissimo di una persona che diceva io non sono di questo mondo pensate cioè qualcosa che quindi il buon pastore vedete che però non è di questo mondo che andava oltre ed ecco noi vogliamo creare sulla terra un nuovo mondo oppure vogliamo rimanere un mondo antico dove purtroppo tante cose che erano belle sono state belle negli anni passati stanno peggiorando e finiremo invece in una macchia di rovi dove dovremo barcamenarci come dico nel libro l'equalismo quando c'è una macchia di rovi rimani lì non c'è altra scelta che tornare indietro tornare indietro non al baratto ma ad un modo di ragionare diverso quindi rinunciare al capitalismo sfrenato che ci ha portato in questa macchia di rovi e provare a immaginare un mondo nuovo dove ogni persona ha una capacità di decidere su tutto un mondo nuovo che ricorda un po' la società dei comuni medievale ma meglio ma più democratica ma più giusta e più tecnologica si può fare? si si può fare basta volerlo è difficile è proprio volerlo pensateci grazie